Il trading è l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, valute o materie prime, con l'obiettivo di trarne profitto. Gli operatori di mercato, noti come trader, cercano di sfruttare le fluttuazioni dei prezzi degli strumenti finanziari per guadagnare dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Il trading può essere di breve termine, day trading, in cui le posizioni vengono aperte e chiuse durante la stessa giornata, oppure di medio-lungo termine, con investimenti che possono durare settimane, mesi o addirittura anni. Esistono diverse strategie di trading, che possono essere basate su analisi tecnica, analisi fondamentale o una combinazione delle due. Quando si parla di trading all'interno di un portafoglio di investimento, si fa riferimento a un approccio in cui una parte del capitale viene utilizzata per effettuare transazioni più frequenti e a breve termine. Questo può aggiungere dinamicità al portafoglio e, potenzialmente, generare profitti più rapidamente rispetto a un approccio di investimento a lungo termine. Il trading comporta anche rischi più elevati, a causa della volatilità dei mercati finanziari. Richiede una buona comprensione dei mercati finanziari, delle strategie di trading e una costante supervisione del portafoglio. Non è adatto a tutti gli investitori e la decisione di incorporare il trading in un portafoglio dovrebbe essere basata sulle proprie conoscenze, obiettivi finanziari e tolleranza al rischio. Un approccio bilanciato che combini, da un lato, una piccola percentuale del proprio portafoglio dedicata al trading e, dall'altro, strategie di investimento a lungo termine, può essere una soluzione per diversificare. Vorresti approfondire le varie forme di investimento e acquisire nuove conoscenze finanziarie? Seguici per altri contenuti sul mondo dell'economia sui nostri canali social.